Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale YouTube di NowTrade e ben ritrovati alla rubrica The Trade of the Day dove parleremo e continueremo soprattutto a parlare di strategie di investimento, di come rendere le strategie di investimento sul calcio profittevoli sul lungo termine che è la cosa fondamentale negli investimenti sportivi. Partendo dal PassiSnipe 0.5 che abbiamo visto nella scorsa settimana, nella scorsa puntata, il link da qualche parte in questo video, oggi parleremo del Classic Snipe, un'altra strategia molto utilizzata, mi sono specializzato in questo tipo di lavoro sul mercato, in questi ultimi anni di lavoro appunto sui mercati sportivi di calcio e oggi voglio parlarvi esattamente di come riuscire anche voi a creare un portfoglio di investimento in Snipe o Classic Snipe o tutte le varianti che vi ho insegnato nel corso di trading sportivo sul calcio e appunto riuscire ad andare in profitto sul lungo periodo con questa tipologia di investimento. Innanzitutto dobbiamo parlare di sniping, che cos'è lo sniping? Se non conoscete questa modalità di trading andate o di value betting, adesso chiaramente articoleremo anche che cosa effettivamente stiamo facendo sul mercato, andate nel mio corso di trading sportivo sul calcio, ci sono tante lezioni, tantissimi esempi live, io avrò fatto centinaia anche di operazioni registrate all'interno dei vari canali di telegram e tutti i social di nowtrade con questa strategia. In cosa consiste il Classic Snipe? Essenzialmente il Classic Snipe è una strategia molto semplice, quasi immediata, noi semplicemente andremo a bancare il risultato esatto all'interno di una partita. Fin qui sembra elementare, sembra veramente molto semplice, ma dov'è che iniziano i problemi? I problemi iniziano nel momento in cui capiamo che lo sniping, soprattutto come lo intendo io, è una strategia ad alto rischio, è una strategia con un rischio maggiore rispetto alle altre strategie. Molto spesso all'interno appunto anche del canale telegram io inserisco segnali di trading dove il rischio è contenuto, oggi, ossia ieri vi ho mandato un segnale in Olanda dove siamo entrato negli ultimi 10 minuti di partita e il rischio è stato estremamente contenuto, 0.5 punti anche di meno per fare 0.9 punti, quindi ovviamente l'analisi rischio rendimento è decisamente a nostro favore. Nel classic snipe così non è, perché la strategia diciamo che a grandi linee io entro sempre a quote di 3 rischiando un punto o rischiando due punti per fare o mezzo punto o un punto. Questa è la tecnica e per riuscire a renderla profittevole abbiamo bisogno di uno strike rate che sia superiore al 70%. Io negli anni, dopo circa tre anni che utilizzo questa strategia insieme a tutte le altre, riesco ad andare in media a un 80% se non addirittura strike rate più alti in alcuni periodi dell'anno su determinati campionati. Per arrivarci bisogna fare una attentissima analisi, non basta scegliere una partita a caso, dobbiamo fare delle extra analisi e dobbiamo soprattutto specializzarci nella football analysis, dobbiamo imparare a leggere le partite, perché vi posso assicurare ci sono alcune partite che hanno molta più probabilità di andare in rete o comunque di avere insomma dei gol all'interno della partita piuttosto che altre. E quindi nello sniping non basta soltanto leggere le statistiche, le analisi, naturalmente tutto questo ci deve supportare il nostro giudizio per entrare oppure no all'interno di uno snipe. Tuttavia la grossa differenza rispetto a tutte le altre strategie di trading o di value betting, chiamatela un po' come preferite, è che nello sniping serve fare football analysis. Ma adesso non voglio più perdere tempo rispiegandovi l'introduzione di questo video, andiamo subito all'interno di un mercato, vi faccio vedere esattamente il mio processo di ricerca e poi naturalmente andremo a vedere e cercare magari anche potenzialmente delle altre occasioni all'interno dei mercati. Quindi ci vediamo tra pochissimo per iniziare la ricerca e soprattutto l'approfondimento del classic snipe all'interno dei mercati di calcio. Eccoci qua ragazzi per parlare appunto del classic snipe e come renderla una strategia profitevole sul lungo periodo. Partiamo subito da un esempio operativo appena concluso, West Ham contro Tottenham. Sono entrato al minuto 65, circa 64-65 a quote di 2.12 e questo è stato un ottimo prezzo di ingresso all'interno di questa particolare partita. Io ho subito chiuso un profitto di 120 euro con un rischio di 134,40 euro. La mia analisi rischio e rendimento all'interno dello sniping può variare ma non entro mai a quote superiori a 3, molto raramente quote di 4, ma l'ho fatto veramente molto molto raramente all'interno dei miei vari investimenti con questa particolare strategia. Vi consiglio di mantenere il rischio quindi entrando al massimo a quote di 3, da quote di 3 fino a quote di 2. Chiaramente ci sono alcuni punti che faciliteranno il nostro ingresso a mercato. Il primissimo punto è entrare su mercati dove non ci sono stati gol, quindi entrare bancando lo 0-0. Questa è una se non la mia modalità preferita di sniping. Sicuramente io entro sempre quando non ci sono stati gol nel secondo tempo o al massimo c'è stato un singolo gol nel secondo tempo. È molto molto raro vedere me in varie operazioni live entrare per esempio in uno snipe quando siamo sul risultato di 3-0 o 4-0, a parte che 4-0 chiaramente non si può più fare sniping, ma in ogni caso molto raramente io entro quando ci sono stati diversi gol nei secondi tempi. Entro soprattutto quando siamo 0-0 proprio perché le quote tendono ad essere particolarmente economiche. Quindi qual è il primissimo punto che voglio toccare? Il primissimo punto è quando io vado su goal profits, utilizzo molto spesso goal profits e utilizzo anche molto spesso trade on sports, sono i miei due strumenti che mi servono per utilizzare appunto l'analisi tecnica fondamentale, diciamo più che altro l'analisi tecnica, per poi fare l'analisi invece in play guardando la partita. In questo momento non so se sentite il sottofondo Sky Sport Football con la partita, chiaramente sto guardando la partita e tutte le partite dove faccio sniping le guardo e le osservo. Tuttavia come faccio appunto io sniping? Allora innanzitutto vado nei filtri di goal profits, vi ricordo potete provarlo, il link è nella descrizione dei vari video della Trading Academy e la primissima cosa che faccio vado a guardare, ossia metto come filtri attivi all'interno della mia selezione 0-0 60 plus e 60 plus no second half goal. Io voglio solo ed esclusivamente partite che siano o 0-0 non all'inizio ma 0-0 nel secondo tempo oltre il sessantesimo, questo è il mio diciamo filtro preferito, se io dovessi riuscire a trovare partite di questo tipo dove al sessantesimo plus siamo ancora in 0-0, fantastico, oppure 60 plus no second half goal. Utilizzando i filtri ragazzi vi trovate davanti alle partite e questo non è fantastico, è molto meglio per esempio vedere le partite che alla fine del primo tempo sono 0-0 e prepararsi per un potenziale snipe, questo è più interessante anche perché ci vuole del tempo, magari dopo un po' di mesi che fate sniping riuscirete in due secondi a fare le analisi, tuttavia è molto meglio per esempio vedere se c'è qualche partita alla fine del primo tempo 0-0 o 1-0, comunque partite dove non ci sono stati troppi gol nei primi tempi e vedere appunto se i secondi tempi si iniziano ad arrivare. Io inizierei sempre a studiare le partite sullo 0-0 ragazzi, assolutamente e che cosa andrei a fare? Andrei subito a vedere le partite che abbiamo. Come possiamo vedere abbiamo in questo caso una partita in Croazia dove siamo 0-0 con un discreto rating, abbiamo delle partite in Francia 1, abbiamo Lenz contro Metz 2-1 con nessuna rete nel secondo tempo, questo è un caso che io non mi piace tantissimo, ecco il 2-1 è uno di quei risultati che nello sniping ho anni di ricerche dietro e migliaia di operazioni registrate, è uno di quei risultati che porta ai risultati peggiori. Se posso darvi un primissimo consiglio, il 2-1 specialmente della squadra di casa è un risultato abbastanza ostico che spesso mi ha portato ad avere degli di snipe non di successo ed è per questo che io considererei sempre lo 0-0 che è uno dei risultati più comuni all'interno chiaramente del classic snipe anche perché i prezzi scendono abbastanza in fretta e poi naturalmente lo 0-1 o l'1-0. Molto meglio addirittura uno 0-1 con la squadra per esempio favorita in casa, in questo caso abbiamo la squadra favorita in trasferta, abbiamo un buon rating sicuramente, abbiamo anche altri indicatori come vedete il Goal Profits segnala anche altri indicatori oltre chiaramente a quelli che dico io, dei filtri, tuttavia questo è subito un ottimo inizio, ecco questa è una tipica partita che io lascerei abbastanza stare, lo so che siamo in Svezia 1 e il settantesimo il ritmo è abbastanza alto, potrebbero esserci delle buone occasioni tuttavia che cosa succede? Succede che il mercato è abbastanza a favore dei gol e quindi fino davvero al settantesimo noi non riusciamo a fare un buono snipe sul 2-3 perché chiaramente i mercati dopo aver visto 5 gol nel primo tempo si aspettano tanti gol anche nel secondo e quindi difficile essere abbinati in fretta magari a un prezzo favorevole sul mercato. Basta andare a vedere appunto sui mercati Lamarby, andiamo subito su Soccer, andiamo a vedere se riesco a trovare la partita, questo è un altro exchange come vi dicevo è Peewee Exchange, poi farò una recensione anche su questo nuovo exchange che mi è stato consigliato dal mio broker adesso che lavoro molto spesso all'interno dei mercati asiatici. Andiamo a vedere Lamarby, il paese e la Svezia, quindi andiamo appunto in Sweden, questi mercati asiatici hanno spesso tantissima liquidità quindi c'è la possibilità di tradare praticamente qualsiasi campionato. Non trovo la partita del Lamarby, Sweden, forse ho sbagliato, sì Super Etan, non è Division 1. Come possiamo vedere, vediamo un po' se trovo la partita al Svenskan, scusatemi, al Svenskan, la Super Etan è il secondo divisione, quindi dobbiamo andare su al Svenskan, scusatemi. Come vediamo 2-3, Lamarby contro Ostersunds, in questo momento le quote all'interno del Correct Score, che comunque è un mercato che è solitamente abbastanza liquido, come vedete 4.715 euro, non fantastico ma comunque decente, come vedete sul 2-3 le quote sono ancora di 3.55, mentre io 10 minuti prima all'interno di West Ham Tottenham sono riuscito a entrare a quote di 2.12, vedete la nettissima differenza, entrare adesso in Snipe in questa partita non è un prezzo favorevole e sebbene ci sia magari una buona probabilità di riuscire a essere abbinati, perché vi ricordo che sui mercati bisogna fare i prezzi, io ho chiesto 2.12, non sono entrato al prezzo che il mercato mi ha chiesto, ho chiesto 2.12 o si che mi ha proposto, ho chiesto 2.12 e sono stato abbinato dopo circa qualche minuto, tuttavia questa non è una buona occasione, questa assolutamente non è una buona occasione, nel frattempo il West Ham sta quasi per farne un altro, vediamo se riesce, no probabilmente non riesce a segnare il secondo gol, c'è un'altra azione, vediamo cosa succede, niente da fare, comunque tornando a noi, questa non è una buona occasione di sniping, perché appunto ci sono stati tantissimi gol, come vedete le quote stanno salendo, la liquidità sta arrivando, adesso probabilmente il gol è anche arrivato, quindi molto probabilmente ecco siamo 3 a 3, tuttavia il prezzo non era un prezzo favorevole, sul lungo periodo un prezzo di questo tipo non vi porta in profitto, voi dovete tenere il rischio più basso, l'analisi rischio rendimento deve essere migliore di questa, se volete operare appunto in snipe, quindi queste naturalmente sono delle buone occasioni, qui di nuovo abbiamo Super Etan, quindi la serie B svedese con un buon rating, abbiamo sicuramente una discreta occasione, di solito io preferisco entrare quando mancano circa 25 minuti, non entrerei all'ottantesimo, anche perché vorrei fare delle analisi prima di entrare sulle partite, quindi comunque vorrei studiarmene un attimo le partite prima di decidere per uno snipe oppure no. Facciamo un esempio però, facciamo un esempio che noi volessimo appunto cercare di entrare in questa partita, Croazia 2 non è un campionato molto chiaramente liquido immagino, proviamo per esempio ad andare invece sulla Greece Super League. Chiaramente 0-2 è già un risultato dove io non entrerei, come vi dicevo sempre io preferisco o una rete, quindi 0-1 1-0 oppure 0-0 che è la cosa assolutamente migliore. Andiamo per esempio a vedere se c'è qualche new entry all'interno di queste selezioni, no sono tutte verso l'ottantesimo, andiamo per esempio a vedere tra l'altro qua non so se il gol sia arrivato oppure no, non si capisce bene, forse sì forse no, i mercati sono molto molto poveri in questo momento di liquidità. Tuttavia, quello che vi consiglio se volessimo per esempio andare a guardare questa partita in Super Ettan, Brage contro Sunsval, possiamo andare all'interno appunto delle analisi macro statistiche, andare chiaramente a vedere le quote di queste partite e cercare di capire in un quadro macro statistico quanto possiamo aspettarci un gol verso la fine della partita e mettere appunto in relazione questo al rischio che vogliamo prendere sul mercato. Quindi in questo momento adesso cercherò di vedere se le partite vengono caricate, oggi chiaramente domenica ci saranno centinaia di partite, ci vorrà un attimo per caricarle tutte, tuttavia se dovessi andare a cercare il Sunsval, questa squadra qui, potrei andare a vedere che adesso Trade On Sports automaticamente mi dà il quadro macro statistico della situazione per capire appunto se verso il finale di partita queste squadre tendono spesso a segnare oppure no. Quindi adesso vediamo se Trade On Sports mi carica la partita e mi carica naturalmente le analisi che ci stanno dietro a questo incontro, nel frattempo io cerco di vedere se ci sono altre partite che si candidano perché ogni volta 60 plus e non ci sono gol, Goal Profits mi rifornisce di partite, questo è un ottimo metodo per riuscire a trovare nuove occasioni costantemente. Non tutte chiaramente poi avranno gol, ma una per volto possiamo studiarcela e naturalmente andare a cercare di capire. Ok, la connessione non funziona quindi ci riproviamo ragazzi, eccola qua, ce l'abbiamo fatta. Come vediamo la primissima cosa che guardo all'interno di un'analisi macro statistica è la average di gol che si registra in partite di questo tipo. Quando io ho una partita sullo 0-0 e la media mi dice che ci sono 2,74 reti in media in incontri di questo tipo in campionati come questi, allora in questo caso la statistica è decisamente a mio favore, ossia i gol tendono spesso ad arrivare, quindi con una giusta analisi rischio e vendimento sul lungo periodo in Svezia 2, quando ci sono partite di questo tipo, tendenzialmente i gol me li posso aspettare. Poi vado sicuramente a guardare il timing dei gol. Come possiamo vedere qua abbiamo un 30%, 35%, 32, 35% ma poi un 50% dal 76esimo al 90esimo. Questo è un altro indicatore molto interessante perché mi permette appunto di trovare delle partite con una alta probabilità di reti proprio nel finale. Sono squadre dove spesso i gol non arrivano se non nella parte finale di partita e quindi io per esempio entrando all'ottantesimo potrei fare uno snipe a basso rischio e ad alta ricompensa perché comunque adesso in questo momento siamo credo abbastanza avanti nell'incontro. Come vedete ci sono stati negli ultimi 10 minuti, non c'è stato granché quindi il rating probabilmente non è stato dei migliori ed è per questo che adesso arrivo parlandovi di football analysis e tutto quello che riguarda l'analisi del calcio. Tuttavia il rating è rimasto altissimo e quindi con una buona analisi rischio e rendimento questa era sicuramente una buona occasione per entrare in uno snipe. Come possiamo vedere in questo momento la partita tra l'altro è ancora 2-3 ma molto probabilmente è arrivato un altro gol perché come vedete il mercato è su Any Other Home Win quindi sicuramente è arrivato un altro gol. Quindi sicuramente questa era una buona occasione per entrare con un rischio contenuto. Non ci sono tanti tiri quindi in questo momento probabilmente non entrerò sul mercato ma aspetterò invece di avere altre partite che pian piano arrivano e vengono rifornite all'interno di goal profits. Quindi questo era appunto come riuscire a trovare le analisi dietro agli snipe. Quindi questo per quanto riguarda le statistiche, le analisi live quindi goal profits che automaticamente mi trova quelle partite dove non ci sono stati goal nei secondi tempi e anche soprattutto gli 0-0 dei secondi tempi. Noi possiamo attraverso le analisi macro statistiche andare a vedere che nei secondi tempi possiamo avere quasi un 77% di probabilità di un goal e la maggior parte di questi goal arrivano proprio verso la fine. Quindi uno 0-0 al 76esimo in Svezia 2 in una partita di questo tipo è una ottima occasione di investimento perché costantemente facendo snipe su queste partite anche senza guardare le partite andremo in profitto. Tuttavia ragazzi non basta questo, non basta questo ed vi invito ad andare, adesso poi lo vedrete da qualche parte, vi invito ad andare a visualizzare il corso di football analysis della Trading Academy. Il mio corso di football analysis dove vi insegno a leggere il calcio, a trovare le partite migliori perché abbiamo bisogno di partite dove le transizioni sono rapide, dove le squadre vogliono entrambe fare goal, non soltanto una delle due e quindi abbiamo bisogno di partite con il ritmo molto molto rapido. Se noi combiniamo analisi molto buone ossia mantenendo rischio tra 3 e 2 come prezzi di ingresso, partite con un buon rating o comunque se riuscissimo addirittura a guardare le partite dove addirittura abbiamo come si dice, intanto qua vediamo cosa succede ma in ogni caso partite dove abbiamo transizioni molto rapide, questo è un ottimo ottimo inizio perché svilupperete la football analysis che è qualcosa che porta ai più grandi traders sportivi al mondo a guadagnare cifre mostruose, come ben sapete ci sono nomi molto illustri in questo campo, non tanto in Italia ma sicuramente internazionalmente tuttavia oltre a sviluppare un'ottima football analysis riuscirete sempre a mantenere un'analisi rischio rendimento che non è eccessivamente a sfavore. Come vi dicevo entrando a 3 che è la quota maggiore più assoluta, oltre a quello non vi consiglio di entrare, con un 80% di strike rate voi sarete costantemente in profitto. È un obiettivo che si può raggiungere ragazzi, quindi vi invito a fare le analisi esattamente come vi ho fatto vedere io, sviluppare la football analysis studiando il mio corso che continuerà nelle prossime settimane e poi soprattutto registrare ogni singola operazione perché vedrete dei pattern quando inizierete magari a fare sniping in determinati campionati che quelle partite sono le partite dove spesso ci sono più gol o meno gol o i gol in determinate azioni, insomma svilupperete un occhio critico molto interessante che nel trading sul calcio vi aiuterà tantissimo specialmente nel Classic Snipe. Grazie a tutti ragazzi per aver visto questo video, io naturalmente vi invito poi a guardare anche gli altri trade e vi invito soprattutto a seguire i miei segnali perché vi mando segnali gratuiti di Classic Snipe quasi tutti i giorni all'interno del canale NowTrade, link nella descrizione mi raccomando perché molti di questi sono in profitto, abbiamo fatto degli ottimi profitti già soltanto nel mese di ottobre. Grazie a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video della rubrica The Trade of the Day Ciao! 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 Ciao!